Le maschere del Carnevale di Nonelli, regione storica del Barigadio in provincia di Oristano. Sono state riscoperte in tempi recenti grazie al ritrovamento di alcuni iscritti del 1700 attribuiti al padre gesuita Bonaventura Liccheri. Avanzano lentamente per voi prodursi in un momento che ancora una volta mette in evidenza il rito, la rappresentazione del frutto di una ricerca davvero condotta con passione. Sul copricapo, generalmente di sughero, vengono applicate corna di daino o di cervo. Pergadio! 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 Sulle spalle indossano una pelle di riccio e sulla schiena, come avete potuto anche ascoltare, al posto dei tradizionali campanacci scotono delle ossa di animale. Rappresentano simbolicamente il ciclo di morte e rinascita tipico di questi riti arcaici. Pergadio! 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 Fuorci! CalFormero! Pergadio! 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 Guardi! Pergadio! Pergadio! Sì! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.